La società ci confrontiamo spesso. È vero che ho palesato le mie intenzioni in senso generale, le mie valutazioni, ma il contenuto mi sembra prematuro e inutile anche. E' more stato che c'è grandissima stima delle persone, sia da parte mia, ma è una cosa anche reciproca. Mi interessa molto l'aspetto personale, perché ci vedo moltissimo, perché sono sempre stato correttissimo con la mia società e di conseguenza è sempre constatabile da parte quella che ha affrettato. Quindi è importante parlare e dirsi le cose da persone responsabili e civili, pensando soprattutto al bene della Piantino, che ogni tanto viene un po' trafasciato. Non è una lotta tra persone, non è una lotta tra quello che vuole un allenatore, che vuole letto, che vuole una squadra più forte e una società che non vuole fare, ma non è assolutamente così. e quindi c'è da capire se ci sono tantissime risposte per andare ancora per cento con il massimo entusiasmo. Sei più lucioso? Per qualcosa? No, anche all'incontro, anche al discorso della frase, se ci sono le prospettive e tutto. Bisogna confrontarsi, semplicemente questo, ancora una volta, forse l'ultima volta, ma vediamo cosa ci diciamo, insomma, non ci guarda niente.